Frana oggi sulla Gardesana all'altezza di Cadine in direzione Trento. Intorno a mezzogiorno grossi sassi si sono staccati dalle pareti sopra il bus de vela finendo sulla carreggiata prima della galleria. Il traffico è stato deviato per Sardagna fino alle 16 con notevoli disagi a ripulire la strada, i vigili del fuoco e gli addetti del servizio strade della provincia.